Ciao bentornati nel canale del Verone, oggi siamo senza il pc, siamo pc spento perché abbiamo la playstation accesa, infatti ho fatto un gameplay in live, ho fatto diverse ore dove ho giocato da playstation, ho notato quali sono i difetti con l'ultima patch, insomma durante la season 3 con il rilascio di Rebirth e ho notato una cosa in avviso abbastanza fastidiosa ma penso verrà risolta nelle prossime settimane, comunque in sostanza ve la faccio breve, Rebirth Thailand è ingiocabile. Ve lo giuro da pc si gioca molto bene, comunque Rebirth la sto giocando molto molto tranquillamente, ho giocato di recente fortune skip da playstation 5 in season 2 e mezzo e mi sono divertito un sacco, ho giocato anche le ranked, comunque la playstation sapete che è limitata rispetto al pc in termini di frame lag. Ora per voi utenti da playstation il termine frame lag non è usatissimo perché non vedete i frame in alta sinistra come noi da pc, i frame in sostanza sono i fotogrammi per secondo che vengono prodotti dalla vostra console oppure dal vostro computer a prescindere. playstation e xbox pubblicizzano le loro console come delle console capaci di andare a 120 fps in 120 hertz, infatti vi fanno comprare i monitor apposta per utilizzare i 120 hertz, gli hertz servono ovviamente a vedere i frame perché è il tempo di refresh, insomma tutte quelle robe lì tecniche, ma realmente su warzone si aggirano tra gli 80 e i 100. Se cercate chi ha fatto di test con dei appositi strumenti, con delle schede acquisizioni eccetera eccetera, quelli sono i valori attendibili, non sono attendibili i valori che vedete sui vostri monitor samsung soprattutto. Fatto stare, rispetto a quello che sono abituato io su pc nella quale ho 200 frame, giocare a 80-100 diciamo si sente già una buona differenza, però è molto molto giocabile. Ecco con Rebirth, Rebirth come la volete chiamare, invece no, è terribile, ve lo giuro la situazione è tremenda, io non lo so quanti fps faccio alla playstation su Rebirth Island perché veramente sembra avverne 60-80, non immagino come sia la situazione da playstation 4. E ho giocato sia nelle ranked, sia nella modalità pubblica in VPN e senza VPN, ho fatto 60 test diversi e non mi sono divertito finché non ho attaccato forte un skip che sembra veramente di giocare da pc, infatti ero stragasato perché era un'ora e mezzo e stavo giocando facendo veramente fatica. E una volta che ho attaccato forte un skip mi sono divertito da morire. Quindi Rebirth Island a livello di esperienza bocciatissima per ora, almeno, speriamo se la ottimizzano, da playstation, questa è la mia esperienza, poi se vi divertite ovviamente divertitevi su, su, sulla vostra console, sulla vostra Rebirth Island. E altre cose ho provato questa scheda audio sulla quale vi porterò ovviamente un video apposito, che ha reso abbastanza bene, si sente abbastanza bene, poi vi porterò ovviamente le migliori impostazioni. E la VPN è che andava e non andava, ma ho visto che in quel giorno avevano problemi proprio anche gli operatori, per cui poteva essere anche un problema il mio operatore. Comunque la riproverò in live, anche oggi, quindi vi aspetto a 17 in live. Vi lascio il link in descrizione, un bacione di Verone, un like e un commento per supportare il video, vi lascio al video. Perché l'arma sembra di sparare l'agilaser da il rumore che fa? Cos'è, un'arma di Star Wars? L'ho sentito sotto, giuro. Ragazzi è fluidissima la mappa. Ma regà, ma si gioca da Dio! Ma che è? Eeeh, dopo riprovo Rebirth, eh? Questa non è colpa della play, questo è il mio cervello, scusatemi. Questo è il lag al cervello che ho, sempre avuto. Regà, cioè, un'altra fluidità ora. Niente regà, sta play è una merda, non entrano i colpi. Sto scherzando. Ho smesso di sparare io. Regà, è fluido. Ah, bestia! Ah, bestia! Cioè, bullone ferito, gli ho dato un colpo, regà. Un colpo, cambiato target in un secondo. Ci si diverte a bestia, regà. Cioè, ora ci si diverte a bestia, ragazzi. Qua. Tac. Cioè, sono proprio rilassato ora a giocare così. Ora è bello. Ora è bello il gioco. Oh, cazzo, gira bene. Sono contento. Oh, ora mi diverto io. E che cazzo. Rainbow Dash! Oh, ma torna, torna dai My Little Pony! Torna, ma dai My Little Pony! Ho tantissima voglia di chiamarmi Apple Jack. O Pinkie Pie. Su Code. Ora mi cambio il nome. Nessuno mi fa la domanda. Perché vi ero conosci tutti i nomi dei My Little Pony? Eccolo Rainbow Dash. Ma sono tutti sotto il resto. Io ti referisco a Frog. Minchia di Stunt Frog, ragazzi. Top 250, ragazzi. Top 150. No, scusatemi, sono in top 150. Cioè, 200. Ragazzi, io vi posso giurare. La fluidità che ho in questo momento sembra quella del PC. Te lo giuro. È uguale. Iguale al PC. Iguale. Stessa fluidità del PC. Ho pianto per un'ora e mezzo per nulla. Ora mi girò come se fosse sul PC. Per un'ora e mezzo ho pianto. Che cazzo siete, oh? Che cazzo non dava l'altro? Da un colpo. Che cazzo? Morca puttana. Oh, non c'ho piastre, regà. Scillate un attimo, please. Morca. Dopo riprimiamo Rabbit, eh. Se no, aveva un problema tipo di, non lo so, aggiornamento. Avevo avviato la console senza di shader, qualcosa del genere. Non poteva laggarmi così tanto, giuro. Ho sbagliato. No, no, no. Mamma. Tu zia. Tu sorella, son morto. Non male, il bro non ha le mie stesse cuffie. Sono morto. Sopra? No. Minch. Questi paletti della luce, poverini. Non vedo niente. Se lo capisci, capita anche a me. Cioè? Crossy? Sjmatto? Cioè, anche a te delle volte la preti gira male? Te lo giuro, c'è una differenza vissale tra come giocavo prima e come gioco ora. C'è proprio il lag, c'è un lag estremo, bro. Veramente tanto. Quasi stavo scimmiando. Full HD alfa. Ma mi girava malissimo prima, bro. Ho fatto un'ora e mezzo dove non riuscivo a sparare. Ora ho girato a Dio. Dicevo, boh ragazzi, io giocavo proprio bene. La play. Se no è perché ho fatto l'aggiornamento e ho avviato subito il gioco. Un coglione. Devo giocarmela diversamente meglio. C'ho il scenting di paperino. Però si gioca bene anche da qua, ecco. Se gira bene. Gira come girava prima? No. Non si gioca bene. Fortissimi. Tra l'ho vissuto di me. Hola, zombie. Oh. Matto questo. Non ho aspettato per niente. Ho sentito. Ho preso qualcuno. Oddio. Non ho dovuto, no. 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 No, un shoto fight Double shot al fight Salta, porca Nice Ok Let's go